Dalmeno io, come la maggior parte, dall'8-9 di marzo siamo stati costretti a chiudere i battenti per questa emergenza e quindi la stiamo vivendo un po' stralunati perché non si pensava che si potesse arrivare a un tempo così lungo stando chiusi, non sapendo i tempi di riapertura, non sapendo un po' dove andare a parare con i dipendenti lasciati a casa, con tutte le spese da pagare e quindi ci troviamo un po' spiazzati. Ecco, nel momento in cui il governo e le autorità vi danno la possibilità di aprire, quali sono le vostre prime preoccupazioni? Le preoccupazioni sono i protocolli intanto da seguire, quindi quelli vanno attuati, vanno mantenute le distanze che ci diranno e va tutelata soprattutto la salute dei nostri dipendenti in primis e di chi viene a mangiare da noi come conseguenza. Detto questo, la nostra preoccupazione è che a causa di queste appunto disposizioni di sicurezza la capienza dei nostri locali va drasticamente abbassata, quindi prima facevi 100, adesso ne fai 25. Quindi noi ci aspettiamo da parte delle autorità che facciano semplicemente questa proporzione, quindi cercando di venirci incontro con tasse, spese, suolo pubblico, diminuendo la burocrazia perché la burocrazia spesso ci ammazza e non ci fa lavorare come uno potrebbe lavorare. Quindi le preoccupazioni sono queste, di riaprire non riuscendo a lavorare come prima perché se si riaprisse e avessimo la certezza che le cose tornano come prima saremmo tutti contenti, però il problema è che non si sa, non si sa quanto turismo ci potrà essere, non si sa quante persone possono venire a mangiare al ristorante con le condizioni attuali, quindi le preoccupazioni sono quelle. Di non riuscire a stare dentro ai costi di gestione altissimi che già abbiamo tutto l'anno lavorando in maniera normale. Queste sono le preoccupazioni più grandi. Un esempio, lei a pieno regime quanti ospiti può servire? Diciamo un centinaio. Ma ti dica, io posso servire? Cioè, metta la mia domanda. Io a pieno regime servivo circa un centinaio di ospiti, adesso ne andrò a servire dai 25 ai 30, quindi quello non è sostenibile, i ricavi non sostengono i costi di gestione in questo momento, e quindi quello che speriamo è che ci vengano incontro su tutto, su tutte le tasse, su tutti i pagamenti, su tassa Tari, che è una fetta importante di costi, affitti, utenze, andrebbe tutto commisurato, sperando che duri il meno possibile. Delle opportunità, delle alternative che vi può dare l'ente del comune per venire d'incontro? Immediatamente cercare di fare aumentare, chi è possibilitato a farlo, i posti a sedere, quindi dando possibilità di occupare più suolo pubblico rispetto ai permessi che c'erano. Quindi questo modo qui ti permette di andare a incrementare dei posti che vai perdendo se devi attuare tutte le misure di sicurezza per questo virus. Questa è una cosa immediata che speriamo si attui nel breve tempo possibile, perché dobbiamo cercare di mantenere i costi bassi. Quindi, detto questo, dobbiamo mantenere 7-8 dipendenti, vogliamo mantenere tutto l'organico, perché è anche brutto lasciare a casa delle persone che hanno lavorato con me 2-3 anni. Dobbiamo cercare di lavorare al meglio e confrontarci con tutte le varie amministrazioni per fare delle cose immediate, dei risparmi subito. Basta, non so più.